Anche ieri in provincia di Verona è accaduto un infortunio mortale sul lavoro. La cronaca purtroppo lo impone, la sicurezza deve essere cultura. Un progetto partito nel Veronese da qualche tempo che coinvolge enti, istituzioni, associazioni di categoria sul tema appunto della sicurezza aziendale, lavorativa, ambientale, sanitaria, alimentare. Prevenzioni, informazioni e strumenti operativi ed incontri sul territorio come quello al quale le immagini si riferiscono. Marano, sala convegni della Banca di Credito Cooperativo Valpolicella Benaco, esperti ed operatori del settore a convegno su cantine sicure, aspetti tecnico-giuridici. Ovvero a pochi giorni da Vinitaly, la vetrina mondiale sul mondo della vitivinicoltura, si sono offerti spunti di riflessione sull'operare in sicurezza all'interno delle cantine vinicole dove, come in ogni ambiente di lavoro, si possono verificare situazioni di potenziale rischio come ribadito dal direttore dello Spisal dell'Ulse 9 che è tra i partner del progetto sicurezza promosso dal network Meneghini Associati. Spesso le cantine sono interrate dove ci sono anche le botti, i magazzini eccetera. Ci sono spesso contenitori, silos, cisterne, autoclave che contengono vino, mosto eccetera in cui si possono creare delle atmosfere in carenza di ossigeno oppure con anche situazioni di atmosfere asfissianti come il CO2 oppure dove è stato sostituito l'ossigeno con azoto ad esempio. Il problema poi successivo è quello relativo a tutto il conferimento dell'uva nella cantina che riguarda quindi tutti i rischi che ci possono essere sia di viabilità dei trattori all'interno della cantina sia dei macchinari che vengono usati per pigiare l'uva eccetera eccetera tutte le lavorazioni in cui ci possono essere problemi di sicurezza per i lavoratori in questi ambienti. Anche gli aspetti giuridici sono stati affrontati nell'incontro a Marano di Valpolicella cantine sicure e misure protettive da adottare per contrastare le situazioni di pericolo. Oggi sempre più abbiamo l'esigenza di mettere la nostra azienda in sicurezza e i modelli organizzativi della sicurezza rappresentano l'unico sistema che possa esonerarvi da responsabilità penale voi come persone fisiche ma anche la vostra azienda.